Nel 99 sono partito per cercare di vincere il campionato. Vista l'esperienza del 98, i miei avversari più difficili sono stati appunto Ukawa e Capirossi che avevano le Honda, invece ero con l'Apriglia. Soprattutto con Capirossi in quel periodo eravamo molto avversari perché intanto eravamo tutti e due italiani e poi Capirossi l'anno prima correva con l'Apriglia con noi, era mio compagno di squadra, poi si è mosso sulla Honda e quindi è stata una battaglia interessante per tutto il campionato. Mi ricordo che Jerez era stata una vittoria molto importante perché la gara prima avevamo corso in Francia alle Castellè e io ero in testa e avevo rotto la catena all'ultimo giro, quindi avevo perso 25 punti perché Ukawa aveva vinto e quindi sono arrivato a Jerez che aveva tipo 40 punti di svantaggio e quindi cominciavamo già un po' a preoccuparci. Invece a Jerez ero andato molto forte, avevo fatto una bella gara e avevo battuto Ukawa e Capirossi che se non sbaglio erano arrivati i secondi e i terzi ma soprattutto gli avevo dato più di 10 secondi, quindi è stata una gara molto importante. Grazie. 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 Grazie.